Con l'operazione svolta nella mattinata odierna è stato disarticolato un sodalizio di 22 persone debito al traffico di stupefacenti nella parte occidentale della provincia di Palermo, in particolare nei comuni di Carini, Capaci, Isola delle Femmine, Cinisi e Terrasini. Già nella fase delle indagini preliminari si è provveduto al sequestro di consistenti quantitativi di sostanza stupefacente e nell'ambito delle biatribe tra i vari soggetti sotto indagine si è assistito anche al ferimento e all'uccisione di alcuni animali.